Finalmente, dopo diversi mesi di lavori in corso, riapre e viene restituita alla città di Cagliari la passeggiata di Susiku, con il rifacimento del pavimento in legno e la balaustra di protezione in acciaio. I circa 200 metri di passeggiata finalmente saranno di nuovo fruibili per i turisti e la cittadinanza. Sì, oggi è un bel giorno perché restituiamo alla città la passeggiata dell'Ammiragliato, che come sapete conduce da Via Roma, dalla Calata Roma, al Molo Icnusa e poi dalla passeggiata dell'Ammiragliato verso Susiku, il Parco Nervi e poi verso Santeria. Quindi è un pezzo che si restituisce alla città e quindi per l'autorità di sistema è un giorno molto importante. Indubbiamente è una passeggiata che è incastonata in una città che al momento è abbastanza cantierata, diciamo così, però alle porte del clou della stagione estiva abbiamo già visto degli avventori che volevano già passare prima di questo taglio che rinaugura questa passeggiata. Sì, avremmo voluto restituirlo qualche settimana prima alla città, però è stato un lavoro molto importante perché è stato rifatto completamente anche l'acciaio sul mare, tutto il tech è nuovo e quindi è chiaro che c'era un'aspettativa da parte dei vacanzieri della cittadinanza che conoscono questa passeggiata, sanno, conoscono la bellezza e quindi era ovvio che avremmo dovuto farlo prima.